Pronto? Allora, buongiorno a tutti. Alessandro Foggia, responsabile dell'elezione del governo del patrimonio e ringrazio ovviamente il direttore per la parola. Volevo darvi in poche, in estrema sintesi, partire un po' da quei numeri che aveva accennato prima il direttore nello scorrere appunto la sua presentazione, con riferimento a quelli che sono appunto i valori e le consistenze del patrimonio dell'Agenzia del Demanio che gestisce appunto lo Stato, che gestisce l'Agenzia del Demanio. Parliamo, effettiamo, di un patrimonio di 61, circa 61 miliardi di euro, un patrimonio molto variegato che va dalle caserme piuttosto che ai palazzi che noi siamo abituati a vedere in uso alle amministrazioni statali, ai terreni agricoli, ai complessi industriali, fino ad arrivare alle piccole e modeste unità immobiliari. Ma come si divide in realtà il patrimonio dello Stato? Essenzialmente noi come Agenzia del Demanio lo individuiamo attraverso quattro macro-categorie. Come vedete, quella principale è la seconda, quella dell'uso governativo, ossia, come dicevo prima, quei beni che sono utilizzate, effettiamo, dalle amministrazioni statali, quindi i ministeri, agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio, Presidenza della Repubblica, ed è ovviamente la parte preponderante del patrimonio dello Stato. L'obiettivo ovviamente è quello di gestire, effettiamo, questi beni con l'esigenza di dare comunque massima soddisfazione, diciamo, ai fabbisogni istituzionali delle amministrazioni. Ed è proprio su questo filone, in realtà, dell'uso governativo, in realtà che si concentra una buona parte dell'attività dell'Agenzia, come anche prima richiamava il Direttore, in quelli che sono i processi di razionalizzazione e riqualificazione, diciamo, dei beni statali. Sempre qui, per citare qualche numero, l'Agenzia del Demanio negli ultimi cinque anni è stata molto impegnata, effettivamente continua a esserlo, diciamo, in quelle che sono le attività, diciamo, di riduzione della spesa pubblica, degli affitti passivi. Solo per citare un dato, basti pensare che dal 2014 alla metà del 2020 abbiamo ridotto la spesa di fitti ordinari da circa 640 milioni a 500, effettiamo, 15 milioni di euro, quindi con un contributo quasi del 20% in termini di riduzione della spesa per fitti, diciamo, passivi. E su queste, diciamo, attività che si concentra molto poi lo sviluppo sul territorio da parte dell'Agenzia, che come sapete è costituita da una serie di direzioni territoriali che hanno un ruolo attivo, effettiamo, in questi processi e che si muovono ovviamente in sinergia con le sedi territoriali poi delle amministrazioni. Meno, diciamo, consistente, diciamo, il pacchetto, diciamo, relativo al primo cluster e quindi il patrimonio disponibile. Si tratta in realtà di quei beni che non riescono, diciamo, ad assolvere, diciamo, l'esigenza di soddisfare i fabbisogni delle amministrazioni statali. È un numero comunque nutrito di beni, parliamo appunto soprattutto di terreni, quote indivise, di proprietà, quindi beni, diciamo, di scarso, diciamo, comunque, diciamo, minor valore e che l'Agenzia, diciamo, con grande sforzo cerca, appunto, di mettere a reddito o comunque, diciamo, lì dove non necessario anche di mettere, diciamo, in vendita attraverso, appunto, i processi di dismissione del patrimonio. E solo per dare, diciamo, due numeri, guardando il valore unitario, diciamo, di questi beni tra i primi due cluster, nel primo caso per il patrimonio disponibile, arriviamo a un valore unitario che è poco al di sopra dei 100.000 euro, mentre, diciamo, per quanto riguarda i beni, diciamo, in uso governativo, arriviamo anche fino a 2.500.000 euro. E poi abbiamo, diciamo, gli altri classi che sono riferiti in particolare al DSA, il bene fettiamo di grande pregio, il direttore prima ha mostrato qualche foto, vi ha fatto vedere qualcuno fettiamo di questi, diciamo, dei nostri, diciamo, dei nostri punti di diamante, e poi l'altro patrimonio disponibile, diciamo, più residuale. Tutto ciò, ovviamente, questa grossa mole di dati non poteva che essere gestita attraverso un sistema di cui si è dotata l'agenzia, diciamo, ormai da una decina di anni a questa parte, che non solo consentisse, diciamo, di immagazzinare tutte queste informazioni, ma anche, diciamo, la possibilità di farne una gestione, comunque, diciamo, di natura dinamica. Il sistema address, che è quello, appunto, adottato dall'agenzia del demanio, è un sistema che poi è integrato con tanti altri sistemi esterni, per esempio la parte contabile, no, che è uno degli elementi, diciamo, fondamentali. Noi abbiamo la gestione del patrimonio attivo attraverso, effettiamo, in collegamento con l'agenzia delle entrate, abbiamo creato qualche anno fa anche il portale della riscossione, che è un applicativo che alla fine consente, effettiamo, all'utenza, in realtà, di avere una, come dire, una visione mediata delle proprie posizioni, effettiamo, quindi, in misura, appunto, online. Il sistema, effettiamo, la sezione, quella del documentale, dove, probabilmente, forse, una di quelle che abbiamo maggiormente sviluppato negli ultimi anni, è quella che per noi chiamiamo un po' l'archivio digitale delle agenzie del demanio. Qui sono conservati tutti i documenti, sia di natura amministrativa, che di natura tecnica, planimetrie, elaborati grafici, che a questo punto, diciamo, risiedono, appunto, sul sistema, non più da un punto di vista cartaceo, e anche effettiamo da segnalare il notevole sforzo che l'agenzia ha fatto in questi ultimi anni per fare in modo che la produzione dei principali documenti avvenisse addirittura tramite sistema, quindi non più partendo dalla carta trasferita poi sul sistema, bensì direttamente dal sistema. Poi, ovviamente, dati in realtà tecnico-fisici, che sono la sezione dove noi gestiamo a livello di singola unità tutte quelle informazioni relative, effettiamo, alla consistenza, ai valori, alle superfici, ai volumi, delle situazioni d'uso, informazioni che sono fondamentali perché vengono poi trasferite anche a quello che è il sistema, diciamo, del MEF, cioè la ragione generale dello Stato, per l'elaborazione annuale di quello che è il conto del patrimonio dello Stato. La sezione di geolocalizzazione, abbiamo sviluppato un sistema che consente la sovrapposizione sulle mappe cartografiche di quelli che sono appunto i beni dello Stato, in modo che possano essere visti anche appunto sulle mappe. Ovviamente è un sistema che consente la visualizzazione di tanti dati, anche grazie a quello che è il contributo quotidiano giornaliero che hanno le nostre strutture territoriali che, come ben potete immaginare, effettiamo, sono impegnate anche, diciamo, al continuo e costante, diciamo, aggiornamento delle informazioni. Una chiosa finale, effettiamo sulla vetrina Open Demanio, una vetrina che l'Agenzia del Demanio ha creato nel 2015, come, diciamo, l'obiettivo di dare una sorta di interfaccia verso l'esterno per consentire anche, diciamo, all'esterno appunto di vedere quelli che sono i dati e cosa fa l'Agenzia del Demanio. Questa sezione, ovviamente, è possibile, diciamo, l'utente esterno, in realtà, accedendo tramite il sito dell'Agenzia, in qualsiasi momento, interrogare, effettiamo, estrapolare, diciamo, estrarre, diciamo, dei dati e vedere anche delle, diciamo, aggregazioni in termini di numeri e valori, nonché andare, diciamo, ad individuare anche sulle mappe, appunto, come dicevo prima, quindi attraverso la geolocalizzazione, quello che è la, diciamo, dei beni dello Stato direttamente, diciamo, sul sistema. Io mi fermerei qui, penso di essere stato abbastanza sintetico, e lascerei la parola ai colleghi e vi ringrazio tutti.